E che si debba sempre diffidare dei politici lo conferma la notizia diffusa da alcuni media, tra cui Libero, di un aumento di 1200 Euro netti al mese che la casta si preparerebbe ad attribuirsi. La proposta è stata elaborata e già presentata alla Camera dall'Onorevole del PD Guglielmo Vaccaro, a noi noto perché tra i 14 eletti del Partito Democratico del Collegio Campania 1 è notoriamente uno degli uomini forti dello stesso Enrico Letta, di cui fu segretario tecnico all'epoca in cui Enrico Letta era Ministro dell'Industria tra il 99 e il 2001. La proposta di legge è la numero 495 ed ognuno può leggerla sul portale della Camera dei Deputati oppure su economedia.it dove la lasceremo in evidenza ancora per qualche giorno. Sul Libero Franco Bechis mette a nudo la trappola della proposta Vaccaro, che in pratica propone di dare ai deputati, ai senatori italiani, un aumento di 1200 Euro netti mensili pari appunto al 24% in più. La proposta gioca sulla cosiddetta diaria che a Strasburgo è proporzionata alle effettive presenze in aula e nelle commissioni di cui si fa parte, ma mentre a Strasburgo e a Bruxelles la diaria è di 304 Euro ogni giorno di presenza, da noi invece è un forfait di 3500 Euro netti mensili. E qui casca l'asino perché mentre a Strasburgo e a Bruxelles il massimo delle presenze è di 80-100 giorni all'anno e quindi è impossibile avere più di 2500 Euro al mese di di dare alla Camera e dal Senato italiano, i signori Boldrini e Grasso, Presidente della Camera e del Senato, hanno disposto che si lavori 5 giorni alla settimana. E se i deputati e i senatori fossero presenti tutti i giorni, la diaria arriverebbe a 6688 Euro mensili, quasi il doppio di oggi. Nel suo articolo Bechis, per chi lo voglia leggere, si addentra nei particolari della furberia insita nella proposta per caro. Alla fine, per essere sintetici, se la proposta dovesse passare, o meglio è già passata, però deve poi andare a essere elaborata e diventare un decreto, il deputato e senatore italiano, se fosse sempre presente, incasserebbe 24.388 Euro mensili, invece degli attuali 13.558 Euro. Per non incassarli, il deputato dovrebbe essere uno scarsa fatiche ed assentarsi, ma di fronte a tutti questi soldi, chi lo farebbe? Infatti la proposta a Vaccaro è stata votata all'unanimità, anche dal Movimento 5 Stelle, Grillo lo sa, e anche i grillini si sono fatti fagocitare dalla casta. Noi ce lo chiediamo e pensiamo che la risposta sia sì, una delusione. E gli italiani se ne sono accorti, se alle comunali hanno dimezzato i loro voti. Molti già dicono basta a Grillo e sono alla ricerca di una nuova casa. L'ex segretario del PD Bessani lo sottolinea con un così imparano a capire il cambiamento. Ma non ci sembra che il PD e i Bessani siano consapevoli del cambiamento, assolutamente.